Un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV6. In apertura il consueto bollettino Covid perché c'è un'importante novità che introduce che alla luce dei dati della cabina di regia Abruzzo, Piemonte e provincia autonomo di Trento passano in area bianca. Lo comunica il Ministero della Salute. Il cambio di colori scatterà da lunedì 7 marzo. Abruzzo e Piemonte dopo essere state in area arancione erano tornate in giallo lo scorso 21 febbraio. Ed oggi sono 1017 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore. Del totale 604 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 3.806 e tamponi antigenici 8.155 è pari all'8,5%. Scendono ancora i ricoveri che passano dai 337 di ieri ai 325 di oggi. Ma ci sono altri 11 decessi. Dato più alto da oltre un mese, il bilancio delle vittime sale così a 2.986. I nuovi positivi a un'età compresa tra 4 mesi e 91 anni. Gli attualmente positivi sono 64.045 più 505 rispetto a ieri. 312 pazienti, meno 12 sono ricoverati in ospedale in area medica, come detto, e 13 invariato sono in terapia intensiva. Mentre gli altri 63.720 più 517 sono in isolamento domiciliare. I guariti totali sono 201.019 più 499 solo nella giornata odierna. Del totale dei casi positivi nuovi, 217 sono residenti e domiciliati in provincia dell'Aquila, 308 in provincia di Chieti, 225 in provincia di Pescara e 328 in provincia di Teramo. 15 casi fanno riferimento a persone fuori regione, mentre per 12 sono in corso. Verifiche sulla provenienza. E noi proseguiamo con il telegiornale. Cambiamo argomento. Grazie ai fondi del PNRR di 213 milioni di euro, la regione Abruzzo potrà potenziare la medicina territoriale. Previsti investimenti anche per la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri. Paolo Renzetti. Assessore Verì, oggi è stato illustrato il piano sanitario territoriale per quel che riguarda l'utilizzo dei fondi del PNRR. 213 milioni di dislocati in tutta la regione, così come ho già detto, che va a produrre, che porta importanti strutture di prossimità come ospedali di comunità, case della comunità e centri di organizzazione territoriale, i cosiddetti COT. L'ospedale di comunità è una struttura importante, aperta 7 giorni su 7 H24, con posti letto dedicati proprio per la fragilità. Le case della comunità sono case aperte 7 giorni su 7 che prestano dei servizi. Le case della comunità vengono suddivisi in AB e SPOC. Le case della comunità SPOC invece sono quelle più a distanza, più a distanza dai centri abitati, ma è importante per dare quell'assistenza di prossimità, che invece saranno aperti 6 giorni su 7 H12. Il centro di coordinamento territoriale è un'unità operativa di gestione di una sinergia di tutte queste realtà e ogni alza ha il numero adeguato in base alla popolazione, ma soprattutto così come abbiamo suddiviso noi, in base alla conformazione, all'orografia della nostra regione. Ed ora la crisi in Ucraina, a Federpharma ha aperto un conto corrente dedicato tramite cui le farmacie potranno fare donazioni volte ad acquistare kit di pronto soccorso per il popolo ucraino. Le farmacie si stanno organizzando anche per allestire dei banchetti dove qualsiasi cittadino potrà lasciare dispositivi medici. Giuseppe Dintino. Dalle garze alle siringhe, dal paracetamolo ai prodotti per l'infanzia. Coloro che hanno la guerra in casa hanno bisogno, prima di tutto, di dispositivi medici. In Ucraina, nella sola giornata di ieri, secondo l'ONU, sono morti 227 civili, altri 525 sono stati feriti. A tamponare la mancanza di assistenza sanitaria ci pensano le stesse farmacie, in Abruzzo e nel resto d'Italia. L'enorme amarezza legata a una situazione che tutti noi consideriamo assurda e incomprensibile, si legge in una circolare che Federpharma ha inviato alle farmacie, ci spinge a fornire immediatamente un sostegno concreto alla popolazione ucraina. La Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia, in collaborazione con l'Associazione Europea di Categoria, ha quindi deciso di aprire un conto corrente e dedicato, dove gli esercizi potranno inviare le proprie donazioni. Con i soldi raccolti, su indicazione del Ministero della Salute ucraino, Federpharma acquisterà kit di pronto soccorso e dispositivi medici per chi sta subendo la guerra. Questa è la prima iniziativa adottata, ma se il conflitto dovesse malauguratamente perdurare, le farmacie si stanno organizzando anche per allestire dei banchetti, dove i singoli cittadini potranno donare i farmaci, come ci spiega il vicepresidente di Federpharma Pescara, il dottor Ferroni. La stessa federazione ha in mente di sensibilizzare due associazioni, la Francesca Rava e il Banco Farmaceutico, per poter sviluppare la raccolta di prodotti necessari per le popolazioni ucraine. Per quanto riguarda a livello locale, noi abbiamo avuto dei contatti con dei rappresentanti della popolazione ucraina, dovremmo incontrarci lunedì prossimo e da lì cercheremo di sviluppare un intervento per sostenere anche nelle nostre farmacie pescaresi e abruzzesi questo tipo di raccolta. Le persone sono sensibili a quanto sta accadendo in Ucraina e ci chiedono quali prodotti poter inviare, ci ha detto Ferroni. Automedicazione e pronto intervento sono questi gli strumenti di cui al momento c'è più necessità. Noi abbiamo avuto già richieste di persone che in maniera autonoma si sono sentite sensibilizzate o perché hanno parenti o perché hanno conoscenze sul territorio ucraino. Noi abbiamo consigliato di dare più che altro, necessitano di pronto intervento, quindi garze, cotone, lacci emostatici, abbiamo avuto una richiesta di lacci emostatici molto importante, paracetamolo, sostanze di pronto intervento. Il presidente della regione Marco Marsilio ha parlato dell'arrivo di profughi ucraini in Abruzzo specificando che l'Abruzzo è pronto per un'eventuale vaccinazione a chi proprio arriva e scappa dalla guerra. Il servizio. L'Abruzzo è pronto ad accogliere chi scappa dall'Ucraina in guerra e anche a vaccinare i profughi che entreranno nella nostra regione. Lo ha detto questa mattina a Pescara il presidente Marco Marsilio che è in costante contatto anche con il governo nazionale. Il tema è che in Ucraina la percentuale di vaccinazione è molto bassa e quindi è probabile che la gran parte delle persone che arrivano non sono coperti da questo punto di vista di protezione. Quindi ora stiamo interloquendo con le strutture anche del commissario per capire come affrontarlo. Noi comunque i quantitativi a disposizione li abbiamo perché siamo riforniti, abbiamo scorte sufficienti per poter affrontare anche un'eventuale campagna di vaccinazione per gli immigrati ucraini. Da questo punto di vista ci stiamo ovviamente attrezzando per poterlo fare. Attendiamo di definire modalità operative insieme al governo, non voglio scendere in dettagli burocratici o amministrativi, però si tratta di identificare le persone, dargli una classificazione come soggiornanti temporanei, persone straniere temporaneamente presenti sul territorio. Si tratta di attivare una macchina, ma nei prossimi giorni ci faremo trovare pronti alla bisogna. Nel frattempo il tema vero è capire quanti ne arriveranno, quanto durerà ancora questa emergenza, se la guerra perdura, se si troverà la via della pace e del dialogo, piuttosto che di una lunga e sfibrante resistenza che comporterebbe milioni e milioni di profughi in tutta Europa, quindi un impatto anche notevole sul nostro territorio. Una risposta di massa c'è stata a Chieti per aiutare a distanza l'Ucraina. L'amministrazione comunale e le associazioni hanno dato vita ad una raccolta di beni di prima necessità e medicine che ha avuto una risposta davvero significativa. Selenia Secondi. Continuano gli aiuti da parte di Chieti, come si è organizzato il Comune per dare un sostegno all'Ucraina anche a distanza? Subito come Comune di Chieti, questo grazie all'intervento del Sindaco e dell'Assessore Maretti e delle attività della protezione civile, ha predisposto un tavolo per coordinare quelle che sono le due realtà cittadine ad oggi che stanno provvedendo dalla raccolta di beni di prima necessità, sia la comunità ortodossa della Chiesa di Sant'Antonio che Betel Italia. Entrambe le realtà stanno provvedendo e in questi giorni stanno inviando i primi beni, i primi carichi di beni in Ucraina, grazie anche alle numerose associazioni, realtà politiche, prende i giorni democratici o l'associazione studentesca 360 gradi che ha aperto un punto in accordo con Betel Italia all'interno dell'università. Tutti quanti insieme alla comunità teatina, dagli studenti appunto ai cittadini, stiamo cercando di fare il possibile per sostenere un popolo che ha assolutamente bisogno di aiuto e che Chieti vuole in qualche modo contribuire ad aiutare. Dove si possono portare, qualora si volesse partecipare alla raccolta di beni, dove si possono portare medicinali e quant'altro? Allora attualmente i punti sono tre, si trovano tutti a Chieti Scalo in questo momento e sono la comunità di Sant'Antonio, la comunità ortodossa, Betel Italia che ha due punti, uno in via Pescassero e uno presso l'azienda ESA nella zona industriale e il punto dell'emeroteca del polo di lettere dell'associazione 360 gradi. Che tipi di beni occorrono? Quali sono i beni più richiesti e soprattutto dove vanno consegnati? Allora vanno consegnati alla nostra sede che sta in via Pescassero e 12, chiediamo genere di lunga conservazione, bene di lunga conservazione, praticamente ci chiedono scatolame, ci chiedono riso, ci hanno chiesto olio, quindi ma medicina, hanno bisogno di medicina, di garze, di disinfettante, niente, questo è quello che ci sono chiedendo, antienziamatori sì, anche, grazie anche a ESA che ci ha dato il locale, ESA Gruppo ci ha dato il locale dove possiamo depositare, preparare i bancali per raggiungere poi l'Ucraina. Ed ora la cronaca nell'ambito di un'operazione scattata all'alba di oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito 10 misure cautelari e perquisizioni nei confronti di persone ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacente fra Abruzzo e Marche, vediamo. 10 persone arrestate all'alba di oggi, 28 kg di droga sequestrata nel corso delle indagini, sono questi i numeri di un'operazione conclusa all'alba dai carabinieri del Comando Provinciale di Pescara che hanno individuato un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti fra Abruzzo e Marche. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara non sono ancora concluse. Un'operazione che è durata dal mese di novembre del 2020 fino quasi alla fine del 2021, un'organizzazione piramidale che ha visto coinvolte 28 indagati di cui stamattina 10 tratti in arresto e portati in vari carceri d'Italia. In precedenza erano già state tratte in arresto sei persone, tutte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al coinvolgimento di alcuni minorenni appartenenti a due gruppi familiari tra gli indagati. E' stato arrestato un ragazzo di origini albanesi che faceva da corriere dall'area balcanica fino alle province di Pescara, interessando anche l'area di Montesilvano. Tutta l'attività investigativa, oltre 28 kg di stupefacenti per un valore di circa 800 mila euro. Sostanze stupefacenti prevalentemente eroina, cocaina, marijuana ed ascice. Controlli in 29 distributori di carburante della provincia di Teramo da parte degli uomini della Guardia di Finanza che hanno contestato violazioni nel 70% dei casi per omessa pubblicazione periodica dei prezzi al mese e del 62,5% per la mancata esposizione dei prezzi praticati al consumo. Le sanzioni totali elevate ammontano a oltre 36 mila euro, sequestrati anche 10.800 litri di GPL riscontrati in eccedenza per i quali è stato messo il pagamento della CISA. L'azione del Comando Provinciale di Teramo della Guardia di Finanza nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, controllati anche 17 automezzi adibiti al loro trasporto, tra e spunto dall'impegnata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per il conflitto russo-ucraino, e allo scopo di contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette e ipotesi di contrabbando. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo nella Marsica e nello specifico ad Avezzano, dove grazie ad un finanziamento regionale sarà realizzato un nuovo centro di raccolta di rifiuti e di riuso. Vediamo. Ad Avezzano sorgerà un secondo centro di raccolta rifiuti e un centro di riuso in Via Generale Rubeo, nella zona nord della città. Nel contratto di igiene urbana è previsto che Tecneco, affidataria del servizio, realizzi il centro per il quale la regione ha concesso un finanziamento di 100.000 euro, con ultimazione dei lavori entro agosto 2022. Il centro di raccolta affiancherà quello già operativo nella zona sud di Avezzano, mentre per il centro di riuso si tratta di una novità per la città. C'è un'area destinata al centro di raccolta e di riuso che è stata individuata già da tempo. In quest'area si sono accumulati, i materiali che devono essere rimossi. Quindi la procedura inizia così, con la pulitura dell'area, che però poi verrà appunto, dove verrà poi realizzato, il centro di raccolta e di riuso. E con questo centro di riuso si raggiungono tre obiettivi. Il primo obiettivo è ridurre la produzione dei rifiuti, allungando la vita agli oggetti, che così forse ritornano ad avere anche il giusto valore che devono avere. Il secondo obiettivo è quello di coniugare le ragioni dell'ambiente con quelle della solidarietà sociale, perché chiaramente il centro di riuso rappresenterà un vantaggio per le fasce meno abbienti. Il terzo obiettivo importantissimo è quello di creare lavoro. Creare lavoro non solo nel centro di raccolta e di riuso, ma anche attraverso le reti di operatori che si sviluppano per riparare questi beni rendendoli poi utilizzabili. Una convenzione è stata firmata tra Confindustria Chieti Pescara e il comando militare dell'esercito Abruzzo e Molise per consentire alle imprese associate di trovare profili lavorativi tra i militari in concedo. Vediamo. Una convenzione tra il Ministero della Difesa e Confindustria Chieti Pescara per la ricollocazione dei volontari congedati è stata firmata questa mattina. Il progetto si chiama Sbocchi Occupazionali. I dati dei volontari in cerca di occupazione confluiranno in un database nazionale denominato SIL Difesa, sistema informativo lavoro difesa, visionabile dalle aziende accreditate, che rende possibile così l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Noi abbiamo una sezione che si occupa proprio dell'orientamento di queste persone, dei ragazzi, corsi di formazione e quindi abbiamo un database dove ci sono tutti i profili di tutti i militari e in Abruzzo ne abbiamo circa 200, dove le varie aziende di Confindustria, in questo caso Chieti Pescara, che si accrediteranno, potranno trovare il profilo che più gli interessa. che è un ulteriore strumento che servirà alle nostre aziende associate per poter reperire personale qualificato in una banca dati che contiene congedanti e congedati di personale militare e quindi favorire questo incontro. E proteggi il tuo dito, ascolta responsabilmente il tema di prevenzione al centro della giornata mondiale dell'udito in svolgimento al Ministero della Salute a Roma. Tra gli interventi, quello di Mauro Menzietti, fondatore di Udito Italia e membro del World Earning Forum e dell'OMS, circa il 5% della popolazione mondiale convive con una perdita uditiva e le stime dell'OMS prevedono che una persona su 4 entro il 2050 sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito, detto Menzietti, che tra i promotori di non ascolta, un'iniziativa annuale che porta all'ospedale gli specialisti in piazza anche in Molise e in Abruzzo, moderatori del convegno di Roma, Valentina Faricelli, presidente della Ollus, Suddito Italia, e giornalista televisivo Luciano Onder. Ed in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, la Commissione delle Pari Opportunità della provincia di Teramo in collaborazione con l'ASL di Teramo presenta un progetto a favore delle pazienti oncologiche dell'ospedale Mazzini dal titolo La Grande Bellezza. L'8 e il 9 marzo, uno staff di parrucchieri e truccatrici sarà gratuitamente a disposizione delle donne dopo il ciclo di chemioterapia. Tania Bonnici-Castelli. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, la Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo mette in campo un progetto a sfondo sociale in collaborazione con l'ASL di Teramo a favore delle pazienti oncologiche del Mazzini. L'8 e il 9 marzo, questo progetto ha già un titolo evocativo, La Grande Bellezza, il trucco che cura. In queste due giornate noi cercheremo di offrire alle pazienti dopo la loro seduta di chemioterapia un momento di benessere che possa migliorare la qualità della loro vita. Certo, piccole cose, però importanti per chi porta su di sé dei segni visibili come la caduta dei capelli, delle sopracciglia, la secchezza della pelle, delle mani, del viso. Ecco, noi abbiamo trasformato una stanza del reparto di oncologia in un piccolo salone di bellezza dove uno staff di volontari e professioniste offriranno gratuitamente il proprio servizio. Magari un massaggio al cuoio capelluto, una messa in piega, il trucco per gli occhi, consigli per cosmetici adatti. E per queste donne noi abbiamo scelto le eccellenze del territorio. Il prestigioso salone di Aldo Coppola gestito da Elisa Centinaro a Teramo oppure una make-up artist per il trucco, Ludovica Barlafante, che tra l'altro è una giovane imprenditrice teramana. Ecco, la Commissione per le Pari Opportunità per l'8 marzo vuole rivendicare per tutte le donne il diritto alla bellezza, sempre e in qualsiasi condizione. È un gesto semplice, ma pieno di affetto e di sorellanza. verso chi combatte una dura battaglia contro il cancro. Sembrare a molti un problema di scarso rilievo, ma in realtà mantenere la propria immagine, riuscire a riconoscersi nonostante la malattia, nonostante le cure che le donne sono costrette a sottoporsi per la malattia, è fondamentale perché loro possono mantenere il loro rapporto di relazione, la loro posizione nella società e nel mondo. L'oncologia di Teramo dà un apparecchio macchinario che serve a ridurre la tuta dei capelli nel 75% delle donne che fanno chemioterapia, ma accanto a questo stiamo cercando di prenderci cura a tutto tondo e quindi anche con dei servizi di agopuntura, di nutrizionisti, di movimento e di ritornare anche a uno stile di vita più sano. Siamo allo sport, domenica alle 17.30 il Pescara ospita il Siena, squalificato Drudi, balottaggio Ianes Girardi per la sua sostituzione. In attacco è pronto a rientro Ferrari, in dubbio. Diamo tra i toscani, ci sarà il capo di Eteri Igi che salterà il match. Il servizio è di Andrea Costantini. Riprendere la corsa verso il terzo posto è l'obiettivo del Pescara che, smaltita la delusione del Braglia, prepara il match di dopodomani contro il Siena, una delle principali delusioni di questo campionato. Terzo posto difficile, ma avere lo scontro diretto col Cesena in casa il prossimo 12 marzo può essere un vantaggio, senza dimenticare che tra le due c'è anche Lentella e che l'Ancona pressa a un punto di distanza dal Delfino. Ieri mattina e stamani la squadra si è allenata a Lughetto di Febo Di Silvi. Auteri sembra aver trovato la quadra con i tre centrocampisti di ruolo Derisio davanti alla difesa, Pompetti e Pontisso Mezziali e ripartirà da questo assetto, avendo però il solito neo, la mancanza di alternative visto che Memushain non ci sarà, anche se il suo rientro è imminente e Diambò, che stamani non si è allenato a pieno regime, se ci sarà non sarà al massimo. Con la scolifica di Drudi, Ianes e Ierardi si giocano il posto al fianco di Ingrosso Davanti la novità più importante dovrebbe essere il rientro tra i titolari di Franco Ferrari che dopo l'espulsione di Fermo ha saltato due partite quella di Pesaro per scolifica e quella di Modena per scelta tecnica essendo rimasto in panca per tutti i 90 minuti. In Cassasiena altro momento complicato le sconfitte con Carrarese e Dentella e lo 0-0 al Franchi con la Viterbese hanno frenato l'effetto Padalino, terzo tecnico stagionale dopo Gilardino silurato dopo il match d'andata con Pescara 17 punti in 11 gare, la miglior media punti dei tre 1,55 a partita e Maddaloni 6 punti in 9 partite con ben 7 sconfitte consecutive. Per la gestione Padalino sono 12 punti in 9 gare un avvio incoraggiante col Siena che era tornato tra le prime 10 ma ora è di nuovo fuori dalla zona playoff. All'Adriatico sarà assente il difensore Terigi per la sua sostituzione sono in balottaggio Farkas e Dumbravanu quest'ultimo con un trascorso nella primavera bianca-azzurra da valutare Bani e Crescenzi mentre è pronto al rientro in mediana Pezzella abbondanza in avanti con Padalino che dovrà scegliere tra Paloschi, Ardemagni, Poker ieri alla primavera Guberti, Tripletta, Caccavallo e Fabbro Direzione di gara a Gialuca Grassoni, Ariano e Ilpino che non ha mai incontrato le due squadre Circa il precedente all'Adriatico il Pescara ha 6 vittorie, 2 pareggi ed un solo K.O. datato 13 aprile 2013 in Serie A, 2-3 col gol partito nel finale di Eme Gara L'ultimo precedente nella stagione successiva in Serie B, 10 maggio 2014 Pescara-Siena 1-0 con rete di Sforzini Gara speciale per il vice di Auteri Cristiano Delgrosso, fresco di ritiro a inizio stagione Il Siena è la società con cui ha avuto più presenze in carriera 155 delle quali 114 in Serie A Domenica sfida di prestigio per il Teramo Almanuzzi contro la terza forza di campionato Il Siena, squalificati Rossetti e Bernardotto C'è Fiorani in pole per giocare in mediana al fianco di Arrigoni direzione di gara affidata a Domenico Mirabella di Napoli Ascoltiamo ora il difensore esterno Biancorosso, Azi Osmanovic Sì, comunque ringrazio la società, ringrazio il mister e tutto lo staff per la fiducia che mi stanno dando ma di sicuro è la mia stagione migliore in Lega Pro questa con il Teramo calcio e spero che continui così Sì, vabbè, comunque sono nato terzino destro comunque pure ho fatto sempre il terzino destro però comunque io rispetto le scelte del mister dove mi mette il mister io cerco di essere sempre pronto e fare e fare il meglio possibile per raggiungere il primo possibile la salvezza e poi andare avanti sempre così pure con il mister con il calcio che vuole fare il mister comunque un calcio propositivo comunque in Serie C non vedi tante scuole che fanno anzi poche di che fanno sto calcio qua quindi ci vuole un po' di meccanismo per capire comunque piano piano ci siamo messi a lavorare a capire i meccanismi e comunque alla fine stiamo uscendo fuori ringraziamo pure i nuovi giocatori che sono arrivati al gennaio che ci stanno dando una grossa mano quindi soprattutto quello sì comunque ringraziamo perché sono arrivati giocatori importanti come D'Andrea come Pinto giocatore di Codromas come giocatore di Cattu eh giocatore di Cattu sì sì comunque Pippo è un ottimo giocatore Pippo sappiamo che comunque è un giocatore di area che comunque in area fa gol è un giocatore molto importante per noi e comunque da quando l'abbiamo arrivato ci sta dando una grossa mano no comunque adesso non stiamo qua a parlare di però prima pensiamo alla salvezza che è la cosa più importante per rimanere in categoria e pensare subito alla salvezza e pensare subito a Cesena che comunque se è un bel risultato comunque poi si vedrà che si potrà fare abbiamo perso 4-0 comunque poi in casa non è che abbiamo fatto una bella figura comunque cerchiamo di andare là e cerchiamo di fare un risultato positivo e raggiungere il primo possibile la salvezza Siamo al Volle in A2 domenica alle 18 la SIE cospiterà il Bergamo riposerà la Bapineto in A3 pausa per la finale di Coppa in A2 femminile rinviata al Tino Ravenna causa Covid da parte romagnola in B2 maschile domani alle 21 l'Alba andrà a Bellaria mentre nel girone Il Paglieta è atteso dal Meta Sorrento alle 19.30 in B1 femminile la Teatina nell'impianto di Nocciano se la vedrà domani con le Toscane del Capannori alle 17 in B2 pure domani alle 18.30 il Gada Pescara 3 sarà ospite del Bari alle 21 il match che vale la promozione tra la vice capolista Corridonia l'imbattuta prima della classe Teramo domenica mentre la Dannunziana Pescara che nel recupero di ieri ha battuto 3 a 0 una falcidiata Gada a Pescara 3 osserverà il turno di riposo la Cetias Montesilvano che ha perso 1 a 3 il recupero col Potenza Picena giocherà alle 17.30 a Trani questa era la nostra ultima notizia tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale Youtube o al sito www.tv6.it grazie per l'attenzione e buona serata grazie per l'attenzione